Ciao fan di Stanlio e Oglio, benvenuti di nuovo sul vostro canale preferito. Oggi vi parleremo di un film comico davvero speciale, Risate in Abbondanza, in inglese Leave Them Laughing. Se volete supportare il canale, diventate membri cliccando sul link nella descrizione. Non dimenticate di mettere un like a questo video e ora iniziamo subito. Che cosa c'è di peggio di un dolore a un dente alle 3 del mattino? Un dolore a due denti alle 4 del mattino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esci da questo letto e poi a lamentorti da un'altra parte. Grazie a tutti. Te lo levo io il dente. Chi sta facendo tutto questo rumore? Domattina ve ne andate. È ancora un rumore e non avrai più bisogno del dentista. dal dentista, il luogo dove anche un eroe se la farebbe addosso. ieri questo dentista ha spaccato la mandibola a mio fratello. dove anche un'altro ufficio di un'altra parte. Toca a lei 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 E a lei Toca 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 a lei